Dames et messieurs ! Ce le hanno chieste a Londra, ma noi? No, 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 no! Ce le hanno chieste a New York, ma noi? No, 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 no! Ce le hanno chieste a Pechino, ma noi? No, 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 no! Ce le hanno chieste a Pisa! Merde! Posevamo mai noi darle a Pisa? No, 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 no! Vengono da Vicentina e che possiamo cominciare! Che fastidio! Sempre la stessa storia a tutti! Sì, avete visto bene? Sono proprio io! Sono qui ferma di tre quarti! Noi oggi! Se mi girassi di qua... La bellezza della Gioconda non va mica ricercata! Bene, madame messieurs, avete avuto tutto il tempo di poter ammirare questa meravigliosa opera alle mie spalle! E a questo punto posso dirvi che la base d'asta di partenza è di un milione di euro! Chi offre di più? Un milione e cinque! Bene al nostro amico e al nostro signore qua! Su, signori, non siate timidi! Un milione e cinque e uno! Un milione e cinque e due! Per me? È un falso! E tre aggiudicato al signore! Ma che è? Ecco! Eccoci siamo! Tocca a noi? Sì, sì, tocca a noi! Ma stai sicuro? Ma certo che sono sicuro, non vedi! Sono tutti qui che ci guardano! Hai ragione, guarda! Sono tutti qui che ci guardano! Non mi toccare! Mettiti giù e piangi! Ma non c'ho voglia di piangere! Mettiti giù e piangi! Ma non c'ho voglia di piangere! Ma piangi! Ma piangi te! Ma non dire stupidaggini! Io sono l'apostolo Giovanni! Tu sei quello che piange avanti, piangi! Ma già come se è l'arcimodo e la sua estate! E' piena di un amore! Oh no! Chiariamolo, eh! Chiariamolo subito! Io, dei quattro, sono la più bella! 2 milioni e 5 e 1 2 milioni e 5 e 2 E' un pazzo! E' un pazzo!